Per il Teatro Eliseo di Nuoro oggi inizia una nuova era, quella del Teatro di Sardegna, che ha vinto il bando per la giudicazione della struttura per i prossimi dieci anni. Subentra l'associazione Intermezzo di Nuoro. Stamattina la nuova gestione si è presentata alla città e alla stampa. All'incontro, ospitato sul palco del Teatro Eliseo, oltre ai responsabili del Teatro di Sardegna, sono intervenuti Sebastiano Cocco, assessore alla cultura del comune, ma anche alcuni illustri esponenti della cultura nuorese, da Marcello Foisa, a Gavino Murgia, a Giovanni Carroni, presente anche Michela Murgia. L'obiettivo del Teatro di Sardegna è quello di fare dell'Eliseo un luogo in cui si produce cultura, si creano nuove professionalità, un luogo aperto alla città ma anche al mondo. Nuoro, insieme al Teatro Massimo di Cagliari, è coinvolto nel progetto Sardegna Teatro, che si propone delle produzioni originali sulla drammaturgia. L'obiettivo è di fare del TEN il centro della drammaturgia a Sarda. Queste le parole dell'assessore alla cultura del comune di Nuoro, Sebastiano Cocco. Il Teatro di Liseo meritava una gestione stabile, una programmazione, meritava soprattutto che diventasse un luogo di produzione di cultura e non solo di distribuzione. Naturalmente io mi sento di ringraziare chi in questi anni ha garantito l'apertura, l'attività culturale all'interno dell'Eliseo, ma è arrivato il momento di fare un salto di qualità. Secondo noi, con un lavoro che è durato un anno, con la consultazione dei cittadini e delle associazioni, dei professionisti nelle gestioni dei teatri, siamo arrivati, secondo noi, al risultato migliore possibile. L'ottica della candidatura di Nuoro, capitale italiana della cultura, il teatro, assieme agli altri luoghi della cultura della città, come il MAN, come il Museo Ciusa e come altri luoghi della cultura, diventeranno sicuramente strategici per la nostra candidatura.